Questo è il podcast di Maife Design, dove parliamo di lingua e cultura thailandese. Prendete una tazza di tè e mettetevi comodi. Ben ritrovati in una nuova puntata del podcast di Maife Design. Anche oggi ci concentreremo su un suono, ed in particolare sul dittongo Ua. Il dittongo è formato da due suoni. Il primo è simile al dittongo francese U, scritto E-U, come nella parola P, poco. Anche se non è esattamente identico, la prima parte del dittongo Ua ha una certa somiglianza con questo U francese e può essere un ottimo punto di partenza per avvicinarsi alla pronuncia corretta. La seconda parte del dittongo, invece, è una semplice A. Quindi, unendo i due suoni, otteniamo U-A, U-A, U-A. In italiano si potrà scrivere sia come E-U-A, quindi partendo dal dittongo francese E-U e aggiungendo la A finale, ma volendo si può anche scrivere come U-E-A. Come ho già detto diverse volte, non c'è una traslitterazione giusta o sbagliata, anche se alcune parole possono essere più familiari trascritte in una certa maniera perché le si vede sempre scritte allo stesso modo. Un ottimo esempio è il termine M-U-A-N-G, ovvero città, che si può trovare spesso trascritto come M-U-E-A-N-G, invece che come M-E-U-A-N-G. Ammetto che io personalmente ho anche trovato questa parola trascritta in documenti ufficiali come M-U-A-N-G, senza la E, però personalmente credo che inserire la E possa essere di grande aiuto per uno straniero per leggere la parola in maniera corretta. Alcune parole comuni che utilizzano questo suono sono B-U-A-N-G, che si può tradurre come Noioso-Annoiato, B-U-A-N-G, che significa invece amico. R-U-A-N-G, ovvero barca. B-U-A-N-G, un ingrediente indispensabile per cucinare. B-U-A-N-G, altro non è che il sale. Ed infine S-I-L-U-A-N-G, che significa giallo. Ci sono poi tre parole che potrebbero trarvi in inganno perché si possono trascrivere in italiano con le stesse lettere, ma che in realtà hanno significati e toni differenti. Si tratta di S-I-L-A-N-G, 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 ve le faccio pronunciare da Mamma Ralita, così sentite meglio la differenza. Tigre non ha alcun tono, mentre Stuoia ha invece il tono MAI-E, sopra il dittongo. Infine camicia presenta il tono mai tu sopra il dittongo. Ascoltate attentamente la differenza tra questi tre suoni. Ve li faccio ripetere nuovamente da mamma ralita. È proprio il tono che ci permette di distinguere tra una tigre feroce, una morbida camicia e una comoda stuoia. E se siete nel dubbio cercate sempre di capire il significato dal contesto. Se qualcuno vi invita al mare e vi dice di portare una è molto probabile che voglia che portiate una stuoia e non una tigre. Mentre se andate allo zoo è quasi certo che vedrete una tigre e non una camicia. Se la Thailandia vi affascina e volete saperne di più su usi e costumi thailandesi potete trovare altri post interessanti sul blog myfedesign.com e nelle altre puntate del podcast disponibile su youtube e sulle varie piattaforme come Red Cycle, Spotify e Apple Podcast. Per rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione di nuovi contenuti non dimenticatevi di seguirci su facebook e instagram. Invece se volete scaricare tutti i contenuti gratuiti delle lezioni sulla lingua thailandese potete trovarci anche su Ko-fi dove potete anche supportarci e offrirci un buon caffè virtuale. La parola su cui voglio soffermarmi oggi però è la traduzione più diretta è annoiato ma in realtà il suo significato è molto più sfumato. Innanzitutto può esprimere una semplice sensazione di noia quando per esempio diciamo cioè sono stufo del lavoro ma può anche esprimere un senso di repulsione e fastidio come quando si dice che letteralmente si dovrebbe tradurre come sono stanco del cibo e si utilizza per indicare la mancanza di appetito magari perché si è malati e si ha lo stomaco sottosopra oppure più banalmente si è stufi di mangiare tutti i giorni uno stesso piatto. Ecco quindi che se chiedete a qualcuno di andare a pranzare insieme e gli chiedete qualche idea di dove andare e questa persona vi risponde questa frase è da interpretare come un sono stufo di mangiare sempre riso proviamo qualcosa di nuovo in alcuni casi può indicare anche una sensazione di frustrazione o di essere al limite della sopportazione che significa sono stufo di questi problemi oppure sono stufo di questa cosa. Queste frasi da una parte potrebbero indicare come non si voglia più parlare di quel determinato argomento magari perché è un problema che continua a ripresentarsi o perché parlarne ci fa stare male psicologicamente ma la seconda frase in particolare potrebbe anche suggerire che in realtà non c'è interesse nel parlare di quell'argomento per altri motivi magari perché non ci riguarda o perché questo argomento non c'entusiasma affatto. Se invece sentite qualcuno esclamare ovvero ripetendo per due volte la parola come rafforzativo questa esclamazione può essere interpretata in diversi modi da una parte potrebbe essere un semplice sono stufo sono annoiato indicando un momento in cui ci si sta annoiando perché non si sa cosa fare ma dall'altra parte potrebbe anche descrivere una sensazione di apatia e disinteresse perché si estufi della vita che si sta facendo o della propria quotidianità che risulta noiosa e senza uno scopo preciso. Quanti significati può nascondere una parola così breve? È incredibile pensare a quante emozioni si possono nascondere dietro questo termine a partire dal semplice disinteresse passando per la noia e arrivando a provare profonda frustrazione. Quindi se vi capita di sentire questa parola fate sempre attenzione a come tradurla e fatevi aiutare anche dal tono con cui questo termine pronunciato e soprattutto tenete conto del contesto in cui viene utilizzato. Ed eccoci alla fine di questa puntata del podcast di Maife Design dedicato al dittongo tailandese Ua e al significato della parola Bua Bua. Il tailandese è una lingua ricca di suoni unici ma non abbiate paura anche se all'inizio può sembrare difficile con un po' di pratica riuscirete a pronunciare correttamente tutti i suoni. Spero che questa puntata vi sia stata utile per arricchire il vostro vocabolario tailandese e per comprendere meglio le sfumature di questa lingua affascinante. Per ora vi saluto e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!